Lieve calo di contagi da coronavirus a Bitonto. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Prefettura e comunicati dal sindaco Michele Abaticchio, la nostra città conterebbe al momento 29 positivi e nessun ricovero ospedaliero. Impossibile però tirare un sospiro di sollievo. I dati regionali fotografano infatti una situazione poco rosia. Nell'ultima settimana in Puglia i contagi sono cresciuti del 16,9%, ben 6,2 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. La relazione è calcolata tra incidenza per 100.000 abitanti e incremento percentuale dei casi. Il rapporto tra positivi e ricoveri è invece dell'8,3%, ancora al di sopra della media nazionale che si attesta al 6,4%. A preoccupare soprattutto la provincia barese, la circolazione virale resta elevata, soprattutto in ambito familiare e comunitario, come d'altronde è stato rilevato anche dal governo nazionale. Per contenere la curva dei contagi, il premier Giuseppe Conte ha dunque varato nuove disposizioni, a cui presto potrebbero aggiungersene altre. Con il DPCM del 13 ottobre sono vietate le feste pubbliche e private e persino le cene fra le mura domestiche. In casa infatti si potranno ospitare solo sei persone. A Trenta è invece fissato il numero massimo di invitati ai matrimoni e di partecipanti ai funerali. Stangata poi su bar, pub e ristoranti, costretti alla chiusura delle attività alle ore 24. A questo si aggiunge il divieto dalle 21 di consumare in piedi o nei pressi del locale, oltre che il timore di subire a breve il coprifuoco delle ore 22. Gravi limitazioni previste anche per lo sport. Sono infatti vietate le gare amatoriali per sport di contatto, come calcetto, basket o pallavolo. Resistono invece le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche. Alle competizioni potrà partecipare il pubblico, sino al 15% della capienza totale, e comunque non oltre i mille spettatori all'aperto e 200 al chiuso. Stessi limiti di persone, previsti anche per gli spettacoli culturali. Vietate le gite scolastiche e i progetti di scambio e gemellaggio. Per tutti rimane l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto e in qualsiasi fascia oraria. Sono dispensati dall'utilizzo della mascherina solo chi pratica sport, running o jogging, i bambini al di sotto dei 6 anni e chi ha gravi difficoltà respiratorie.